Nella trasmissione Verissimo di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ospite in puntata Viera Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzarata e il Vallo nel 2004. La donna, nell'intervista fattale dalla conduttrice, si lascia andare ad un piccolo sfogo spiegando di quanto si fosse sentita sola e anche additata malamente dopo la scomparsa di Denise e parla anche del rapporto con l'ex marito Ottoni Pipitone. Queste sono le sue parole. Entrambi abbiamo fatto una scelta, dice la Maggio parlando dell'ex marito. Tornava a casa poche volte l'anno e a volte alternavo io andando a trovarlo in Toscana. Era diventato un matrimonio di facciata, ma avevo un rapporto molto aperto con lui. Mi fa rabbia il fatto di aver pensato di più agli altri che a me stessa. Dopo la scomparsa di Denise ho vissuto momenti bui e mi sono adattata alla solitudine. Ho dovuto lottare per far emergere la verità e anche che il viso di Denise girasse. Quando ho iniziato a chiedere aiuto non c'era l'attenzione che c'è oggi. Ricevo ancora segnalazioni? Non tutte vengono prese in considerazione perché ci sono quelle che vanno scartate a priori. Oggi quando c'è una segnalazione cerco di rimanere con i piedi per terra ed ogni volta che una segnalazione non si è rivelata reale il dolore è stato lancinante. In questi 18 anni ho dovuto anche subire accuse, dicerie e malelingue. Spero tanto di poter raggiungere la serenità, quella serenità che mi è stata tolta. E riguardo a Denise aggiunge Per me Denise è viva, io ci credo tantissimo. La paura che le possano aver fatto del male c'è, ma io la cercherò fino a prova contraria. Smetterò solo quando ci sarà una prova che lei non c'è più. Questi amici era uno stralcio dell'intervista della signora Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. Come sempre vi chiedo di iscrivermi la vostra qua sotto nei commenti. Per non perdervi nessun video news o nessun video classico che esce ogni venerdì alle ore 18, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Ci vediamo con un nuovo video.